Io sicuramente un paio di calze al colo baleno posso anche metterle, ma credo che oltre gli slogan di facciata e al rainbow washing servano davvero delle politiche di inclusione e di valutazione delle differenze, cosa che oggi in Lombardia proprio non avviene. Quindi sicuramente una cosa da fare è potenziare le case rifugio per le persone LGBTQI+, che ad oggi appunto non hanno degli spazi sicuri dove poter andare se vengono per esempio cacciati di casa o se non hanno un reddito perché appunto discriminati sul lavoro. Vanno promosse nelle scuole percorsi di educazione alle differenze e anche quando si parla di educazione sessuale dare spazio anche ai diversi orientamenti. Pensiamo che vadano promossi nelle aziende, anche nelle aziende private, così come fra i dipendenti pubblici, dei percorsi che vadano in qualche modo a creare contesti di lavoro più inclusivi, che vadano a sbontare anche gli stereotipi e i pregiudizi che ci sono verso la comunità LGBTQI+. Grazie una parola. Grazie. Grazie.